Sì, Giorgia Meloni per questa visita a Milano ha scelto come prima tappa la Prefettura, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piante e Dose. Ha partecipato a un incontro, al quale era presente anche il Sindaco di Milano Sala, sul piano della sicurezza nelle stazioni. Poi nel punto stampa improvvisato, qui nel cortile della Prefettura, è stata la Presidente del Consiglio a chiarire che questo piano sta funzionando bene. 40.000 controlli, la sicurezza che resta in cima all'agenda del Governo, anche su altri fronti, a partire dalla questione anarchici. Serve la compattezza delle istituzioni, ha detto la Premier, che ancora una volta scaccia le richieste di dimissioni per Del Mastro e Donzelli. Dipende e ribadisce ancora una volta che tutto quello che era stato in qualche modo passato da Del Mastro a Donzelli non erano elementi secretati, come ha detto il Ministro della Giustizia, ricorda la Presidente del Consiglio, che poi affronta anche un altro nodo, quello del caso Fazzolari, legato alla scuola, alla possibilità in qualche modo dell'insegnamento, dell'uso delle armi. Un caso già smentito dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Su questo torna Meloni per dire un caso che per me non esiste, che è stato già smentito. La sentiamo. Guardi, il caso, secondo me è un altro, se posso dire, è che io ritengo che questa cosa non sia mai esistita. Fazzolari dice che questa cosa non l'ha mai detta e quindi voglio dire, non capisco il senso, cioè si dà una notizia su una cosa che, diciamo poi, ognuno dice la sua, però, quando viene smentita da tutti gli interessati, forse uno ne dovrebbe prendere atto. Invece qui si continua a parlare di cose che potrebbero non essere mai esistite. Giorgio Meloni che poi rassicura anche sulla compattezza della coalizione di centrodestra, nella maggioranza e anche con i ministri un rapporto che va avanti sui temi, andiamo avanti con velocità, questo dimostra quanto il Governo stia lavorando bene, sottolinea la Presidente del Consiglio che tra poco parteciperà proprio a un evento di coalizione per sostenere Fontana, l'appuntamento al Teatro d'Albermo, e ci sarà l'intervento della Presidente del Consiglio poco prima del candidato proprio del centrodestra per queste regionali, che ricordiamo è il primo test elettorale di fatto per il Governo, con Meloni che domenica aveva sostenuto il candidato nel Lazio, oggi è qua per Fontana. Per il momento è tutto da Milano a voi.